Benvenuti nella seconda parte del video Lui ha fatto un casino Sì, ho fatto un casino, scusate Ho metto in due parti Non è il mio recomendo di... Ok, andiamo Eravamo rimasti a questo punto Cioè, io ho uno Gol con Bampersi E adesso E adesso ci stiamo uccidendo La vicenda? No, non ho fatto Spero che il video vi piaccia Anche se la grafica non è delizia E deve venire l'euro però Che è un xbox? Eh, no, è il telefono che è tarato No L'idiosa brinda Eh beh, io sono un animale Oh, 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 oh Genia, orangotango mode What the... No What the... Ah, no Veramente volevo andare in scivolata Però... Però... In scivolata Ho avuto un altro metodo Più sicuro Più sicuro Tira E... No Giù 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 Ripley del gol, mamma mia, mamma mia, gol, gol, sì, no, io sono un bravo bambino, allora io ho dodici anni e invece ti goni a sette o due ne hai, e tu hai due anni, hai due anni, hai due anni, hai due anni, Lui ha dieci anni, io ho dodici, ma siamo due lotti, vabbè io ho undici, undici, non ho dodici, undici lotti, ne vado undici, ne vado undici, ho paura, stiamo facendo i lotti in questo video, la prossima volta si devono bocciare perché sto parlando come un cinese, oh my god! Ho ucciso una vecchietta sulle spalle, donate il 5, 5, 5, 6, 5, 9, 5, 5, 5, 5, basta, per donare 5 euro al giorno alle vecchiette che vengono uccise dagli spalle dei geni troppo forti di Neymar, no, 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 esci, esci! No! 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 Neymar! Neymar! No! Di sembrir il coprini di Harry Potter! Il mio tesoro! Non si vede niente! Mi viene a facciare i testi! Oh! Mi siamo già... Coppa! No! Sciso Van Persi! No! 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 Siiii! Grazie a tutti.